Ciamparini invita bambino romano a pranzo. Anza, Roma, 23 ottobre giornata indimenticabile per il piccolo Gianluca, un giovane romano che questa mattina era nell'albergo che ospita il ritiro romano del Palermo, impegnato questa sera all'Olimpico contro la Roma nel posticipo della nona giornata, per scattare qualche foto con il Rosamero il presidente del club siciliano, Maurizio Ciamparini, colpito dalla simpatia del giovane e dalla sua competenza calcistica lo ha invitato al pranzo di squadra. La foto del piccolo Gianluca in compagnia di Zamparini è stata pubblicata dal sito ufficiale del Palermo.